Una passeggiata in centro e una visita nei palazzi istituzionali. È l'iniziativa organizzata dall'Associazione Senior Italia Federanziani Piemonte per la promozione dell'attività fisica tra gli over 65 che ha fatto tappa a Palazzo Lascaris. Un gruppo di oltre 80 persone è stato ricevuto dal presidente del consiglio regionale Mauro Laus che ha sottolineato l'impegno dell'Assemblea nel promuovere una nuova cultura della salute con al centro la prevenzione e l'attività sportiva.